L'Una amichevole e non solo lei, dalla vostra parte avete anche Marte, promoter di viaggi ed esilaranti novità. All'opposizione il sole, ma non vi metterai il bastone tra le ruote, semplicemente si limiterà a portare in luce la verità. Amore ed eros, qualche battibecco, in effetti ha ragione il partner e dopo una lunga discussione vi toccherà ammetterlo. Sopra i contrasti, però, stravince il sentimento, l'eccitazione incontenibile per le coppie ancora in rodaggio, dal flirta al colpo di fulmine è questione di un attimo, lavoro e Denaro, nessun, lavoro, è più gratificante che viaggiare, anche di pochi chilometri per un appuntamento o un affare, basta mettere il naso fuori città per sentirvi rinascere. Sienza se poi incontrate coda, evitate di forzare l'acceleratore e non arrabbiatevi col vicino di macchina, anche se le sue infrazioni sono clamorose e nessere, stati infiammatori, forse conseguenza della vostra vita spericolata o delle abbondanti abbuffate, modello banchetto medioevale che ogni tanto vi concedete con gli amici la domenica, ma poi si purga di lunedì